Il Consiglio Comunale di Avellino Chiama, il Direttore Generale del Moscati, Renato Pizzuti, risponde con una lettera. Criticità pronto soccorso legate alle carenze di personale, è così in tutta Italia. Nel frattempo gli specialisti dai reparti dell'Azienda di Rilievo Nazionale vanno via e a turno vengono inviati in pronto soccorso per scongiurare chiusure come quella estiva ai pazienti non codici rosso. Sempre più quelli che decidono di lasciare l'ospedale di Avellino, il sindaco festa a margine dell'Assemblea dei sindaci dell'Asl convocati per discutere di organizzazione sanitaria, invita in maniera critica il manager a fornire delle soluzioni. Sono un po' preoccupato per la risposta dei Pizzuti, ma da parte sua mi sento un po' preoccupato perché se il Comune bandisse dei concorsi ai quali poi i vincitori non vorrestero dar seguito mi porrei la domanda perché, poiché sono io il capo dell'amministrazione, probabilmente farei anche un po' di autocritica un direttore generale che dichiari, devo dire anche in maniera molto sincera, bagniamo i concorsi ma chi li vince, non accetta, dovrebbe porsi un quesito banale. Perché? E poiché guida lui l'azienda ospedaliera da un po' di anni, probabilmente ci sarà qualche responsabilità ovviamente non sua. Lo dice lui, non lo sto dicendo lui e non lo sto dicendo io. Ammette forse qualche responsabilità, sarebbe opportuno capire quali sono i problemi ma lo dico per la comunità, perché se abbiamo un'azienda ospedaliera dalla quale la gente fugge c'è un problema serio. Abbiamo un'azienda ospedaliera che si è sempre detto è un'eccellenza ma forse lo è stata un'eccellenza, ora non lo è più.